Buongiorno, il 20 ottobre celebra la chiesa di Vicenza nel nord Italia una propria santa semplice, Santa Maria Bertilla Boscardin, sora che proviene dalla vita dei campi, che riconosce nella via dei carri la via migliore per la santità, una via umile, una via che non si appoggia sull'apparenza, una via dedicata a coloro che sono all'ultimo posto. E nel Vangelo di oggi ascoltiamo il capitolo 12 di Luca, i versetti del 49 al 53, nei quali Gesù, con passione e intensità straordinaria, ci mostra un volto inedito della sua missione. Si sente mandato a gettare fuoco sulla terra, si sente mandato per un battesimo che è il battesimo del sangue. E allora ecco che scopriamo che l'essere discepoli di questo Signore Maestro, come ci dice sora Maria Bertilla Boscardin, significa percorrere la strada appassionata ma anche dura dell'offerta di sé. Quella passione di Gesù, infatti, nasce dalla consapevolezza che solo perdendo se stessi fino alla croce si è veramente testimoni dell'amore radicale di Dio. Ci sentiamo allora tutti chiamati, battezzati anche noi come Lui, a vivere con coscienza e con coerenza il dono di un amore prima di tutto ricevuto, ma che poi deve diventare a sua volta offerta. Questo vale per ogni discepolo del Signore, per ogni vocazione, per quella della consacrata, per quella del laico, della laica, per le famiglie. Vale in particolare per i ministri della Chiesa, perché sono chiamati a essere anche davanti al popolo di Dio testimoni di questo dono ricevuto e dono da dare. Un ministero in particolare ordinato che non sia assegnato da questa capacità e questa disponibilità a un'offerta totale di sé diventa un mestiere, diventa una funzione, diventa un ruolo e dunque si impoverisce, si svuota, non ha senso e rischia di fare molto male alla popolo e alla comunità cristiana. Il Signore, con la sua passione per l'uomo, per la vita, ci indichi davvero quella strada, quella via dei campi, che ogni battezzato, in qualsiasi vocazione viva, dal Papa fino all'ultimo dei cristiani che vivono ai margini della terra, eccoci indichi quella che è la storia di salvezza autentica, l'offerta totale di noi stessi, che sa anche mettere confini, laddove i rapporti possono diventare ingombranti, rapporti di dipendenza, rapporti morbosi, rapporti che non aiutano, in famiglia, in comunità, nel lavoro, in qualsiasi parte, perché l'offerta totale di sé che Gesù, il Figlio di Dio, ci insegna, e quell'offerta che sa restituire anche alle relazioni più importanti, più vicine, più prossime alla nostra quotidianità, il valore che si meritano, non un possesso, non una dipendenza, ma un cammino condiviso di libertà. Il battesimo che abbiamo ricevuto, come quello di Gesù, ci renda liberi per amare, liberi nell'amore, liberi con l'amore da donare agli altri. Buona giornata.